Quanta importanza si dà alle pulizie nel settore turistico? Quanto viene considerato il pulito? E l'igiene? Nell'evoluzione del turismo, le pulizie sono sempre state affrontate con un approccio passivo, un impegno fastidioso dettato da normative e leggi. L'obiettivo non è mai stato l'attenzione per il cliente, ma a spendere il meno possibile. C'era poca pianificazione e scarso controllo sui costi. Nel frattempo, il mercato negli anni si è bloccato. Il settore alberghiero si è trovato a dover fare i conti con minore entrate e costanti uscite. Le OTA, inoltre, hanno sicuramente penalizzato l'albergatore, che si è trovato in poco tempo a dover sostenere commissioni sempre più alte. Qual è stata la conseguenza di tutto ciò? Il taglio di tanti costi, tra cui ovviamente quelli dedicati ad igiene e pulizia. Un vero peccato, perché è proprio ciò che il cliente finale cerca maggiormente in una struttura. Il piacere di soggiornare in una camera gradevolmente profumata, la tranquillità di dormire in un ambiente sano, la protezione da infezioni e malattie. Questo è importante per lui. Oggi l'organizzazione del pulito è affrontata con poca sensibilità e soprattutto poco controllo. Da una parte un gran turnover di personale, dall'altra metodi, strumenti e prodotti non adeguati a garantire una pulizia eccellente ad un costo sostenibile e corretto. La pulizia è marketing, è comunicazione, è immagine, è ospitalità. Occorre avere un approccio manageriale. Bisogna creare collaborazioni professionali per creare un progetto perfettamente sincronizzato con il livello qualitativo e il posizionamento dell'hotel, in grado di applicare e soprattutto monitorare nel tempo ogni aspetto, per un risultato tecnico ed economico impeccabile. La soluzione non è più il prodotto o il suo prezzo, ma il metodo che permette all'albergo di avere il giusto costo per questa attività. Partiamo dall'analisi, la fase in assoluto più importante. Fornisce il dettaglio completo di tutte le esigenze della struttura, analisi globale della struttura, delle superfici, degli ingombri, valutazione del fattore di rischio dei vari ambienti, analisi del flusso di presenze interne ed esterne, delle frequenze degli interventi. Tutte le informazioni vengono poi rielaborate grazie al nostro software, il Puzzle Clean, permettendoci di adottare la miglior soluzione tecnico-operativa e garantendo un sicuro risparmio. Calcolare il monteore complessivo con tempi reali in ogni intervento, determinare consumi e costi del prodotto per ogni operazione e per ogni area, gestire il personale attraverso una compilazione automatica delle mensilità, realizzare una relazione tecnica, controllare i costi reali confrontandoli con quelli preventivati, gestire il magazzino prodotti e le attrezzature, organizzare le manutenzioni programmate sui macchinari. A tutto questo si aggiungono solide basi di conoscenza, costruite attraverso una valida formazione teorica e ancor più pratica, con l'obiettivo di rendere il personale consapevole del proprio ruolo, garantendo così il raggiungimento dei risultati. Infine, un controllo capillare, grazie all'impiego della bioluminescenza, misurando in pochi secondi il grado igienico delle superfici, correggendo eventuali problematiche, garantendo l'igiene totale. RM. Progettare e vivere il pulito.